C'era una volta un re indiano che aveva come suo personale consigliere un vecchio saggio. Questo vecchio saggio però aveva un difetto, qualsiasi cosa succedeva lui ripeteva sempre quello che Dio ti dà è per il tuo bene. Il re sopportava questo difetto perché comunque il vecchio saggio gli dava sempre ottimi consigli. Durante un giorno di pioggia il re si regò insieme al suo consigliere dal suo barbiere personale. Terminate tutte le operazioni di pulizia del viso il ragazzo di bottega cominciò la manicure e mentre si stava occupando dell'anulare del re ci fu un gran tuo. Tutti si spaventarono sia il re che il garzone e in quel momento zac malauratamente il re perse il suo dito. La rabbia del re si abbatté sul malcapitato garzone e gli disse maledetto passerai tutti i tuoi giorni in prigione. Ma a quel punto il consigliere ha ricominciato la sua litania. Tutto quello che Dio ti dà è per il tuo bene, tutto quello che Dio ti dà è per il tuo bene. Il re furioso di rabbia gli disse maledetto anche tu mi hai stufato, mi hai ingannato tutti questi anni in prigione anche tu. Almeno lì lo racconterai alle sbarre e ai muri. Il giorno dopo il re ancora rascosso per la rabbia decise di andare a fare una battuta di caccia e decise di andarci da solo perché aveva bisogno di un po' di solitudine per sbagarsi un po'. Quando si notrò nella giungla venne catturato dai Tug, una tribù di adoratori della di Akali. Questi erano molto felici perché avevano trovato qualcuno da sacrificare alla loro divinità durante la notte di plenilunio. Il re le provò tutte, provò con le buone, provò con le cattive, provò a minacciarli ma non ci fu verso di farli desistere nel loro intento. Il rituale ebbe inizio, lo legarono, iniziarono a danzare intorno e quando il capo dei Tug stava per affondare la sua lama nel petto del re vide con orrore che gli mancava un dito. Ma come si fa a sacrificare qualcuno il cui corpo non è perfettamente integro? La dea Akali se ne avrà a male e quindi decisero di percuoterlo, di dargli un po' di bastonate ma se non altro di lasciarlo vivo. Il re ancora tutto stordito si avviò verso il palazzo e si ricordò delle parole del suo vecchio saggio. In effetti aveva ragione, se lui non avesse perso il dito avrebbe in questo caso perso la sua vita. E allora tornò subito dal suo vecchio saggio e gli disse guardami scusami veramente non avevo capito che tu avevi ragione. In effetti sai cosa mi è successo? Sono stato catturato dai Tug, mi stavano per sacrificare, hanno visto che mi mancava l'anulare e mi hanno lasciato libero. Avevi ragione, tutto quello che Dio ci dà ce lo dà per il nostro bene. E tuttavia amico mio mi stavo chiedendo ma se è vero come è vero che Dio ci dà tutto per il nostro bene a te. Che sei stato messo in prigione, che sei stato umiliato, che cosa ti ha dato di prezioso? Con serenità il vecchio saggio guardò il suo re e candidamente rispose maestà se non fossi rimasto chiuso in prigione io sarei stato sicuramente al tuo fianco e io come vedi ho tutte quante le dita delle mie mani. Questa storia ci insegna a vedere le cose che ci accadono da tutte le angolazioni e a non pensare che quello che ci accade è necessariamente qualcosa di sbagliato, qualcosa che per il nostro male. Spesso col senno di poi le cose che ci sembrano grandi tragedie si rivelano delle grandi fortune. E a te è mai capitato di trovarti in situazioni che lì per lì ti sembravano spiacevoli e disgraziate e che invece si sono rivelate delle grandi fortune? Scrivilo qui nei commenti, fammi sapere, facciamo una bella carrellata. Iscriviti anche al canale YouTube Psicologia e Vita e alla newsletter dal sito robertoausilio.it. Ciao, a presto!